Mi avete risolto un vero peso. Il rapporto con le telecamere poteva diventare difficoltoso per quello che mi riguardava. Poteva crearmi dei problemi, difficoltà a mostrarmi in tv molte volte. L'arrivo qui mi ha risolto il problema. Sono stato molto bene qui a Cicinao dove i ragazzi e le ragazze che ci sono sono fantastici. Ti aiutano e ti supportano in tutto il percorso clinico. Non ti fanno mancare l'Italia e non ti fanno mancare nulla guarda proprio tutta l'organizzazione.